Bentornati su Denamod, oggi vi propongo una nuova parte della rivista per quanto riguarda What's Inside e il White Darth, in questo caso di maggio 2018 rilasciato dalla Games Workshop. Come potete vedere dalla copertina stessa, questo White Darth riguarda in principal modo gli I Don't Have Deep King, che è la nuova armata di Age of Sigma rilasciata. Però c'è anche molte cose, quindi adesso apriamo e vediamo cosa c'è all'interno. Cominciamo con lo staff del White Darth stesso, è una piccola introduzione di quello che è l'introduzione del White Darth e qui possiamo vedere i contenuti, possiamo vedere che c'è veramente molto contenuto all'interno di questo White Darth da tener conto, quindi vi consiglio comunque di tener conto della quantità di informazioni che troverete. E poi possiamo vedere quelli che è appunto i nuovi modelli rilasciati per quanto riguarda gli I Don't Have Deep King. In particolare vi ricordo che questo modello qui lo troverete in un video qui, nell'unboxing che ho fatto, perché io ho già comprato questo modello e mi sto accingendo a preparare i nuovi video che riguarderanno appunto la modifica del modello. Richiederà un po' di tempo per poterlo fare, perché è un modello molto grosso e i progetti relativi ad esso sono molti. Però comunque ve li porterò al futuro, quindi state tranquilli al riguardo. Devo dire che per quanto riguarda questa armata degli I Don't Have Deep King ci sono modelli che mi piacciono relativamente molto, beh, questo è principalmente la shipwreck perché non potevo esimermi dal prenderla, giocando non morti e capite perché a breve. E poi abbiamo i personaggi che sono veramente molto molto belli, secondo me, realizzati veramente molto bene. Anche qui possiamo vedere che ci sono unità veramente molto interessanti, anche se questi modelli mi piacciono molto meno, sinceramente. Però ce la date in considerazione. E poi possiamo vedere anche, per quanto riguarda i 40.000 cose, è stato rilasciato questo mese. Il codex della Death Watch, che è stato già rilasciato e lo potete già trovare, e quello degli Alicchini, che verrà rilasciato veramente molto presto. Sono veramente molto interessanti come codex, quindi tenetene conto. E poi ovviamente le datacad. Una cosa interessante che potete trovare inoltre che è stata rilasciata è questo Webway Gate, che è praticamente il portale della rete, ed è veramente molto interessante e realizzato molto bene. E' un po' particolare, però mancava come elemento scenico, quindi è interessante in quel senso. E possiamo vedere un po' di quello che è il nuovo merchandise, quindi nuovi modelli rilasciati per quanto riguarda Blood Bowl con i Doom Lords. Quindi anche qui potete vedere che c'è veramente molte cose nuove. E poi possiamo vedere che c'è una nuova Rangel, quindi una nuova armata, se volete, per quanto giocare Necromunda, e rilascio di un altro libro per quanto riguarda Necromunda. Quindi quello che vi dicevo, che verranno rilasciati i libri con l'aggregazione dei diverse bande che vengono rilasciate durante i White Harf, di nuovo si viene a manifestare. E perché quindi comprare i White Harf? Perché potete giocare prima, perché avrete le regole. Quindi tenetene conto in ogni caso. E possiamo vedere poi quelli che sono i giochi licenziati per quanto riguarda la Games Workshop. In particolare da segnalare il gioco di ruolo per quanto riguarda Warhammer Fantasy, quindi il vecchio mondo in questo caso però. Quindi diventa molto interessante il rilascio e il poterli giocare. E poi ci sono anche nuovi giochi come per esempio questo, che è per PC, che è la Dettus Titanicus, quindi veramente molto interessante come diverse analogie. Da gioco di carta, perché l'interpretazione normalmente è su carta, e invece quello dei PC. Possiamo dare anche nuove per quanto riguarda la Forge con questo nuovo modello che è stato rilasciato. Possiamo girare e possiamo trovare per quanto riguarda la Black Ribéry, le nuove cose che vengono rilasciate. In particolare è interessante questo che è il libro per quanto riguarda l'ineferata. E sinceramente sono abbastanza interessato a prenderlo, anche se sono più tentato ad aspettare di avere una Collector a riguardo. Però questo è veramente molto bello, anche come stile, come cosa. sono molto tentato ad ancora decidere se prenderlo o meno, però sicuramente le storie all'interno valgono la pena di solo decidere effettivamente se metterci in mano o meno. Poi possiamo vedere per quanto riguarda la posta dei lettori a EWDF stesso. Il Temporal Distort. Poi qui possiamo vedere alcune che sono delle, possiamo dire, suggerimenti per cominciare un'armata Tau. Ovviamente questo non vuol dire che è quello da fare, semplicemente è un modo per cominciare a collezionare armate e vi danno alcune delle, quelle che sono le funzioni dei diversi modelli presenti all'interno del Codex Tau. Quindi da guardare se siete interessati. E possiamo vedere qui quelle che sono le Designer Notes, quindi i progetti dei Designer, per quanto riguarda la nascita dell'armata degli Addon of Deepkin. Quindi potete vedere molto di quello che è il background dietro ad essi. Quindi secondo me c'è veramente molte cose interessanti da leggere a riguardo all'interno. C'è veramente molto, secondo me, che si può dire a riguardo, oltre che avere alcune anticipazioni di alcuni modelli che verranno riusciti a presto riguardante l'armata stessa. Però molto buono. E poi possiamo vedere qui, per quanto riguarda Living Metal Masterclass, alcuni modelli che sono stati riusciti da Living Metal. E potete vedere anche, per esempio, come realizzare alcuni effetti. Perché dico come realizzare? Perché qui potete vedere l'effetto. Però se giriamo potete vedere proprio come realizzare l'effetto. Vi viene spiegato appunto come sono stati realizzati gli effetti. Quindi secondo me è veramente molto interessante per poter realizzare queste cose qui, avere questi piccoli incipit che ci sono e personalizzare un po' i modelli. E poi possiamo vedere questa, che è un'armata collezionata da un privato, che riguarda appunto in questo caso la Dettos Mechanicus. È un'armata veramente molto interessata, realizzata molto bene. Quello che mi piace soprattutto è la personalizzazione delle basi, che normalmente sono abbastanza ignorate. Qui invece sono curate molto bene e mantengono tutto il tema dell'armata. Quindi sicuramente è veramente molto interessante. E inoltre vi fa vedere come realizzare alcune modifiche. Non ne realizzare le stesse, ma proprio l'effetto di alcune modifiche e come può cambiare notevolmente l'approccio di un modello e come questo poi si manifesta in campo. Quindi secondo me diventa veramente molto interessante da analizzare e da tenere conto. Poi possiamo vedere per quanto riguarda i Golden Lemon, possiamo vedere alcuni modelli molto belli, per esempio questo diorama è veramente eccezionale a mio avviso. Anche la pittura però, il diorama in particolare è molto bello. E possiamo vedere che qui potete trovare veramente molte idee su come realizzare i diorami, su come realizzare determinate scene. Quindi secondo me c'è veramente molto interessante anche qui, molto bello. Quello che non mi piace è per esempio questo diorama, che può essere realizzato molto bene per quanto riguarda la pittura, ma il diorama stesso secondo me lascia un po' a desiderare, per esempio. Non mi convince molto. E poi possiamo girare. E anche qui potete dare nuove idee su come realizzare, per esempio ottenere effetti come questo, secondo me è veramente estrezionale. Quindi c'è veramente molto. E qui possiamo vedere quello che è, se prima abbiamo detto che venne rilasciato nuovi codex per quanto riguarda la my40.000, quello che è il materiale relativo a quei nuovi codex, quindi per quanto riguarda gli allechini e per quanto riguarda la devwatch. E voglio ricordare che per quanto riguarda la devwatch voi avete accesso comunque a tutta quella che è l'armata degli Space Marine. Poi però dovete prendere magari degli accessori o modificare un attimo per personalizzarli. Però comunque tenete conto che avete anche quelle opzioni, quindi è interessante in quel senso. E poi possiamo cominciare a guardare per quanto riguarda i battle report. In questo caso abbiamo lo scontro per il vorame 40.000 dei Tau contro gli Space Marine. Quindi anche qui diventa molto interessante. Quello che non mi piace, e ripeto ogni volta perché sinceramente non mi convince, secondo me non è bilanciato come scontro, è l'utilizzo dei power level. La King Swarshop sta cercando di puntare molto a questa cosa, però sinceramente a me non convince ancora, per me è troppo sbilanciato, quindi preferisco usare ancora il punteggio normale. Non mi convince assolutamente. Possiamo vedere che comunque c'è molto materiale relativo. E poi abbiamo un battle report per quanto riguarda la nuova armata degli Aydon Tipkin contro la Legends of Nagash. In questo caso in particolare la stessa Grand Host of Nagash, che è appunto condotta da Nagash. Quindi abbiamo lo scontro tra i due personaggi più grossi all'interno delle due armate. e possiamo vedere che all'interno possiamo trovare molte cose interessanti, non solo per lo sconto in sé, ma anche per gli elementi scenici. Perché se vi ricordate, questo elemento scenico qui, che possiamo vedere un po' meglio qui, è un qualcosa che abbiamo trovato nei wide arf precedenti e che stava venendo realizzato. Quindi vi ha mostrato come veniva realizzato. E questo, secondo me, è un incipit maggiore per modificare e realizzare tavoli personalizzati e a tema per quello che state facendo. Quindi realizzare veramente dei lavori molto buoni e molto interessanti. Quindi questo battle report, oltre che per lo sconto in sé, io ve lo consiglio per dare un'occhiata a come è stato fatto alcune modifiche, come sono state usate alcune elementi scenici, perché a mio avviso possono dare molta ispirazione a tutto quello che è, se volete, la possibilità e l'approccio a realizzare non solo le miniature, ma anche quello che le circonda. Quindi, a mio avviso, tenete conto di questa cosa perché veramente può essere molto interessante per aumentare, se volete, non solo la vostra capacità pittorica, perché comunque richiede un po' di abilità, ma anche un po' l'inventiva e soprattutto quello che è la personalizzazione in campo non solo della vostra armata, ma del tema con cui state giocando. Quindi, secondo me, c'è veramente molta ispirazione in questo senso. Possiamo continuare a girare, quindi potete vedere, è veramente molto molto interessante. E poi abbiamo, ovviamente, se prima abbiamo parlato dei rilasci dei miniature per quanto riguarda gli Audex di Volama 40.000, adesso per quanto riguarda gli Aydon Dipkin, quindi i diversi modelli che sono accessibili per questa armata. In particolare questa, come vi ho già detto, ho già fatto un unboxing e l'ho già presentata, e in futuro porterò molti video relativi per quanto riguarda la personalizzazione della stessa. Poi possiamo vedere questa, che è per quanto riguarda la Hall of Fame, quindi alcuni modelli che sono realizzati dalle vittime stesso. E ovviamente, in questo caso, la concentrazione è realizzata per quanto riguarda Arcanon Ever Chosen, che è uno dei modelli principali per quanto riguarda, diciamo, la grossezza e le novità che sono state introdotte con i nuovi modelli. Diciamo che questo è veramente un modello interessante, realizzato veramente molto bene. E poi possiamo guardare i racconti per quanto riguarda i quattro Warlords, quindi come sta procedendo la loro sfida nel creare la nuova armata. Abbiamo per quanto riguarda i Beastcloth Riders, abbiamo per quanto riguarda le Dothos of Keen e Mago Team of Nargo, per esempio. Però sinceramente, delle Dothos of Keen non mi piace molto questa colorazione qui, non la trovo granché. E soprattutto non mi piace il fatto che siano i colori invertiti rispetto all'armata di Nargo. È una scelta probabilmente, però non è una scelta che trovo molto azzeccata, non mi piace granché, sinceramente. E poi abbiamo per quanto riguarda la Legends of Nuggets, quindi i Death. Quindi, un modello interessante. E poi abbiamo un gioco nuovo che viene presentato. Da notare che questo gioco ha tutte le regole presenti all'interno di questo WayDarth e il gioco stesso è la base presente nel retto del WayDarth stesso. Quindi, semplicemente basta mettere le miature, avere un po' di dadi e cominciate già a giocare seguendo le regole. È almeno interessante, sicuramente se siete interessati a provarlo vale la pena e avendo tutte le regole qui praticamente lo giocate direttamente. Vale la pena o no? Dopo sta a voi, però ve lo consiglio di provarlo perché secondo me vale la pena comunque almeno provarlo perché è interessante. Un'altra po' di pubblicità sulla nuova armata che è dei Blood Bowl dei Doom Lords. Poi possono dare nuove regole per quanto riguarda Necromunda. Quindi ancora, vi ricordo che c'è veramente ogni numero pubblicano ancora. ovviamente voi poteste dire ok ma tanto dopo fanno i libri con la raccolta però li avete dopo quindi se volete già giocare ogni volta a quello che è secondo me è interessante averli già di base quindi tenere conto che queste bande le giocate subito una volta preso il White Darth invece di dove aspettare il lascio del libro sta a voi. Ovviamente se vi interessa oltre cose che non è semplicemente le regole di Necromunda nel White Darth magari poteste dire aspetto però comunque secondo me conviene comprare il White Darth e dopo anche l'altro per avere una raccolta e invece si porta via un miliade di White Darth e qui abbiamo invece per quanto riguarda Blencizzo qui secondo me è una miniera per quanto riguarda quello che è possibile usare per ispirazione perché ci sono veramente molte ispirazioni su come realizzare la propria madre le proprie bande da guerra quello che volete però veramente c'è veramente molta ispirazione in questo articolo per i diversi modelli che potete trovare quindi anche soltanto questi articoli secondo me valgono la pena perché c'è veramente molto da tenere in considerazione quindi sicuramente interessante non ho notato ma questo qua è praticamente un vampiro su moto quindi tanto per farvi un'idea di quanto è molto peculiare il mix che si può realizzare quindi veramente interessante poi abbiamo la parte per quanto riguarda la pittura alcune tecniche di pittura spiegate molto velocemente e poi abbiamo la pittura stessa in questo caso è molto interessante secondo me già questo vale la pena perché avete per esempio come realizzare la pelle come realizzare alcuni disegni come realizzare la colorazione del rosso dell'argento quindi interessante per esempio questa per come realizzare questo bianco qui che secondo me è molto interessante il rosso c'è veramente molto molte opzioni interessanti date nella considerazione ad esempio come creare i disegni quindi questo secondo me è una cosa ricca e anche semplicemente per prendere questo per prendere il wide art per avere la parte di pittura ne vale la pena perché vi da molta ispirazione per esempio come avete anche per la pelle quindi in questo caso è veramente molto ricco questo wide art stesso lo giriamo abbiamo di nuovo per quanto riguarda la black library continuo a non capire perché continuo a pubblicare due volte la stessa roba però vabbè cioè però comunque non mi piace sta cosa e poi abbiamo per quanto riguarda i modelli dei lettori una cosa interessante da tenere in considerazione in questo caso è che ci sono veramente molte nuove idee per quanto riguarda questa parte qui c'è per esempio questo dirama che è interessante ma in particolare questo che è veramente molto bello secondo me come modifica quindi c'è molte cose da tenere conto che secondo me possono essere interessanti da guardare almeno per avere qualche idea poi abbiamo questo che è praticamente un solo lettore che ha più foto relative alla propria armata quindi anche questo è interessante da tenere in considerazione da dare un'occhiata varia perché ci sono alcune modifiche interessanti all'interno e poi abbiamo quello che è la parte per quanto riguarda se siete interessati a qualche informazione particolare per una delle vostre attività della Games Workshop qui potete vedere quello che c'è quindi c'è Spire e avete l'accesso ai siti internet quindi semplicemente è un modo per avere i riferimenti dove andare a cercare la roba e qui abbiamo la parte per quanto riguarda del Warhammer World ricordo che per trovare questo materiale dovete andare o al Warhammer World o ai vinti in cui ci sia lo staff del Warhammer World stesso sinceramente questo è una cosa che ancora sogno di prendere più tardi spero di riuscire prima o poi a metterci le mani sopra perché mi interessa molto poi giriamo e possiamo andare a quello che sta venendo creato nei Wad Earth e troverete nei Wad Earth successivi quindi ricordate che questo lo trovate anche a distanza di qualche tempo ma troverete quello che trovate qui in qualche modo rappresentato poi su Wad Earth stessi e poi possiamo girare possiamo trovare ancora un po' di cose interessanti e poi possiamo andare questo che è quello che c'è alla fine del gioco che è il Crystal Labyrinth che è appunto quello che abbiamo parlato prima che è il gioco all'interno di Wad Earth stesso ecco che quindi possiamo dire che questo è veramente molto ricco come Wad Earth perché se volete avere un po' di background sugli Idonet Deepkin se volete fare questo gioco che è molto interessante almeno da provare se volete che ne so io avere qualche informazione in più per quanto riguarda Necromunda perché ci sono le nuove bande se volete vedere qualche battle report c'è veramente tante cose in particolare anche le parti di pittura secondo me sono veramente molto interessanti ecco che quindi questo secondo me è un Wad Earth che consiglio di comprare perché è veramente molto ricco di materiale ovviamente poi sta a voi vedere se il materiale vi interessa quello sicuramente ad ogni modo da Denomod è tutto vi invito a mettere mi piace nel video vi invito a iscrivervi al canale e suonare la campanella vi invito a commentare qui sotto se siete interessati a come migliorare questo per esempio questa particolare guida dei Wad Earth quindi il What's Inside o a suggerirmi alcuni video da realizzare o alcuni temi da trattare e da Denomod è tutto quindi alla prossima